Riprendiamo. Abbiamo visto alla linea 57-59 il commento che Gesù fa al Padre Nostro che ha appena pronunciato secondo la tradizione matteana e abbiamo capito più o meno come il tema del perdono sia dell'uomo sia di Dio si trovi nel Nuovo Testamento. Abbiamo questi due blocchi del perdono di Dio iniziale e finale e nell'intermezzo abbiamo il perdono dell'uomo. Quello che è impressione è questo. Come si perdona? Dobbiamo fare la figura degli stupidi? Noi siamo purtroppo abituati al meccanismo poiché io so, io faccio. Tra sapere e fare c'è a metà una realtà che noi molto spesso calpestiamo e si chiama sentimento. Veniamo da un'educazione, parlo soprattutto per la mia generazione, in cui il sentimento era totalmente espulso dalla vita della persona. Ciò che era importante era la razionalità, il capire. E quindi tu hai imparato che le bugie non si dicono, tu non devi più mentire, dimenticando che certi comportamenti, anzi tutti i comportamenti nascono da un certo modo di sentire la realtà, non di capirla. Tu puoi spiegare a una persona di genere femminile che i topini bianchi piccoli sono innocui, innocenti, non hanno l'aleptospirosi. Mollate due topini in cucina e vedi che la donna si mette con la pasta in testa e va alla guerra con la scopa e te li ammazza. C'è una reazione che non passa attraverso la razionalità. Questo è un esempio esagerato. Ma guardate che capita a tutti di avere queste forme reattive alla realtà che ci circonda che nascono dal sentire, non dal sapere. Detto questo, il perdono si colloca nel sapere ma si colloca anche nel sentire. E il sentire ha bisogno di tanto tempo. L'orientale, che non è stupido, quando parla di conversione, adopera quel verbo che implica tanto tempo. Il verbo SHUV è brevissimo. SHIN, poi c'è il VAU e poi c'è il BET. Diremo un verbo nano. Però sottostante c'è l'esperienza del beduino. cammello, carovaniera, cammello de vie, il beduino è addormentato sulla gobba del cammello, un certo momento si sveglia e vede che è fuori pista. Gira il cammello, SHUV, girare e poi lascia che il cammello ritorni verso la carovaniera con il ritmo che è deciso dal cammello, non dal beduino. Perché il cammello odora l'acqua a 40 chilometri di distanza ed è lui che deve camminare e quindi è lui che deve dosare le sue energie. Il verbo SHUV, convertirsi, è un verbo che tiene conto del capire e del sentire. E la stessa cosa riguarda il perdono. Io non posso perdonare perché so che il maestro mi chiama a perdonare. io devo educare il mio mondo interiore a fare questo. E la prima educazione del mondo interiore a fare questo è guarire la ferita ricevuta. Quindi è inutile che tu dica io ti perdono se dentro di te c'è ancora questa ferita beante. Devi fare in modo di guarire quella ferita senza farla pagare a nessuno. questa è la prima cosa che bisogna fare. Poi c'è una seconda cosa. Il perdono non è mai totale e immediato. Non ne siamo capaci. allora c'è un perdono progressivo. Cominci con il non vendicarti e poi prosegui. Quanto tempo ci vuole? Che ne so l'arabbetto che a Betlemme mi ha detto guarda che ti vogliono circa un'ora e venti un'ora e un quarto un'ora e venti per arrivare a Gerusalemme me l'ha detto dopo che mi ha visto fare venti passi. Io sono tornato indietro gli ho detto un mucchio di insolenza e dico potevi dirmelo subito e lui mi ha risposto come facevo a dirtelo se non sapevo come camminavi. Ognuno ha il suo ritmo di maturazione fra virgolette sentimentale. E poi c'è un terzo elemento un terzo elemento che noi molto spesso dimentichiamo perché come occidentali disgraziatamente siamo fatti a compartimenti stagni. Perdono è il perdono l'amore è l'amore che so io la giustizia è la giustizia la verità è la verità no, non è così. La verità è sempre accompagnata dal rispetto. Una verità senza rispetto cessa di essere verità. Detto in termini teologici una verità senza carità senza carità non è verità. E così pure il perdono. Provate un momentino a concentrarvi. Leggiamo le beatitudini beati i misericordiosi perché di essi il regno dei cieli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi il regno dei cieli inclusione. Beati i misericordiosi 1, 2, 3, 4 beati i colori che hanno fame e sete di giustizia 5, 6, 7, 8 beati i perseguitati a causa della giustizia sono due strofe e tutte e due di quattro stichi e tutte e due finiscono con il tema della giustizia. Le due strofe si leggono in parallelo non in sequenza. Guardate che l'orientale ridacchia di noi ingenuotti occidentali. E allora se le cose stanno così vuol dire che una beatitudine spiega l'altra. Beati i miti beati gli occhi operatori di pace e chi sono i miti gli operatori di pace. Andiamo alla prima. Beati i poveri in spirito beati i misericordiosi. Chi è il povero in spirito? Il povero in spirito è colui che è libero dentro anche dal proprio io. è libero è libero dalla sicurezza che le ricchezze diano tutto è libero dal potere se ha il potere lo esercita come servizio non come piedestallo di dominio. Il povero in spirito è un uomo libero anche dal proprio io allora può essere misericordioso misericordioso in quanto aiuto a chi è più debole misericordioso in quanto perdonante ma se gli manca la povertà nello spirito mai diventerà misericordioso. Dietro dunque al perdono c'è un'arte ed è l'arte di educare i sentimenti è l'arte dei tempi lunghi è l'arte della profonda convinzione che il perdono non nasce spontaneamente ma deriva da una formazione al non egoismo beati i poveri in spirito. Ci siamo? allora è chiaro che a questo punto tu il perdono lo valuti molto bene e sai come darlo e il fatto che tu perdoni non significa in automatico che le cose tornino uguali a prima perché c'è una cicatrice ed è poco saggio da parte tua ripristinare tutto come prima con quella persona che sai che ha un certo carattere ha una certa inaffidabilità e una propensione a tradirti. dopo il primo viaggio apostolico Paolo e Barnaba che sono due santi tornano a casa tornano a casa neri uno con l'altro due caratteri diversi due modi di pensare diversi e quando Barnaba dice a Paolo dai che organizziamo il secondo viaggio Paolo dice tu vai per la tua strada che io vado dal lato opposto proprio lui lo dice sono due santi quindi io non ce l'ho con te io ho perdonato te tu hai perdonato me ma non siamo fatti per stare insieme ciao vi è chiaro quindi il perdono è sempre intelligente non è mai da gnocchi perché il perdono arriva come punto finale di un cammino di maturazione che tu fai nell'equilibrio interiore fra fede sapere e sentire contemporaneamente tu guarisci la tua ferita e accetti il criterio della progressione ci siamo amin vediamo di andare avanti quando Dio propone dunque il perdono in questa forma comprendiamo che il perdono non è né un automatismo né una robina del bambino piccolo ma è qualcosa che appartiene alla persona adulta che sa lavorare dentro di sé con la testa e con il cuore naturalmente questo lavorio bisogna farlo o è giusto farlo dentro ad un orizzonte che ti dia un po' di tranquillità e questa tranquillità da dove viene linea 65 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui guardate la costruzione del verbo pisteuo qui so che c'è almeno penso anche di più ma almeno una professoressa di greco e vede che il verbo è costruito con es più l'accusativo non con em più il dativo solite cose che sappiamo si crede e la fede è un cammino di identificazione con il maestro perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la zoe aionion dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per crime crime vuol dire mettere una sentenza quindi la parola condannare è eccessivo bisognerebbe dire non per giudicare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui sozio cosmos di autù chi crede in lui non è condannato punto cosa si nasconde dietro a questa affermazione qualcosa di molto rasserenato se la fede nel suo complesso è un cammino progressivo il perdono segue la stessa itineraria perché il perdono è un atto di fede per il cristianesimo non è un puro atto antropologico seconda cosa chi ha chi ha questo atteggiamento di un cammino progressivo non è non è giudicato da dio no non è condannato non è giudicato non è sottoposto dunque a nessun tipo di sentenza questo è questo è il primo dato che rasserena il nostro cammino verso un perdono maturo ed equilibrato secondo siamo alla linea 71 qui c'è un falso paolo che scrive cioè c'è un autore che è discepolo di paolo e si mette nei panni del maestro questi meccanismi che noi oggi chiameremo falsi era qualche cosa di normale nel mondo antico perché il pensiero che questo discepolo esprime è il pensiero del maestro e quindi l'opera va pubblicata con il nome del maestro anche se il maestro è morto almeno un venti anni prima raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande suppliche preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini politici compresi per tutti gli uomini per i re e per tutti quelli che stanno al potere perché possiamo noi condurre una vita calma e tranquilla dignitosa e dedicata a Dio questa cosa è cosa bella è gradita al cospetto di Dio nostro salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che giungano non che possiedano ma che giungano cammino alla conoscenza della verità Dio Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati se andiamo al testo greco è simpaticissimo perché il verbo volere non viene espresso con bulo ma ma con celo e di fronte alla cele matuse non ci sono opposizioni uno solo infatti è Dio e uno solo anche uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini l'uomo Cristo Gesù ripeto la frase uno solo anche il mediatore uno solo Maria Vergine non è mediatrice vi è chiaro è scritto non lo dico io uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini e i santi neanche loro non so se siete stati a messa oggi perché vi aspetta il passio ma ogni preghiera che dice il celebrante non finisce per Maria Vergine che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo ma dice per Cristo tuo figlio che vive e regna per mezzo di lui non per mezzo di Sant'Antonio di Padova che Maria Vergine e i santi siano fra virgolette i nostri alleati o non ci piove sopra ma la mediazione solo di Gesù è scritto stando così le cose dove sta la nostra seconda il nostro secondo orizzonte di serenità nel fatto che questo uomo Gesù conosce molto bene la nostra umanità ci è vissuto dentro e la lettera agli ebrei lo dice Cristo è pieno di compassione per noi non perché noi siamo cretini ma perché siamo uomini donne e lui ha avuto la nostra stessa carne il nostro stesso sangue e quindi sa capire il groviglio che abbiamo dentro perdono non perdono ma mi viene una rabbia ma che Dio lo strafulmini gli ebrei lo dicevano signore che sua mogli resti vedova e i suoi figli orfani parola di Dio lo dicevano pregavano così noi no e sbagliamo perché tanto Dio conosce i nostri sentimenti quindi la seconda garanzia di serenità è questo noi abbiamo il dovere di essere ogni momento noi stessi